Il nostro progetto è quello di realizzare qualcosa di unico ed esclusivo. Un tributo alla città di Verona, che fosse veramente pensato, disegnato e sviluppato in Italia. Abbiamo scelto per il marchio un'immagine famosissima, che identifica la città di Verona, la sua storia e la dinastia che l'ha resa celebre. I nostri orologi si ispirano ad un'icona del passato, che ha fatto la storia dell'orologeria, uno stile intramontabile e leggendario. I modelli che abbiamo sviluppato sono un cronografo con movimento quarzo meccanico ibrido ed un automatico solo tempo, con movimento personalizzato in esclusiva. Per noi è molto importante prendersi il tempo. Tutto quello che serve per realizzare un oggetto fatto con il cuore, con la passione, l'amore e la cura dei particolari, come solo in passato i nostri abili artigiani facevano. Un'attenzione per le linee, le forme e la cura dei particolari, per creare orologi di altissima qualità. Desideriamo realizzare un lavoro che rimanga nella storia della nostra famiglia e che possa essere tramandato di generazione in generazione anche da chi lo sosterrà con la medesima passione ed amore per il bello. Seguiteci e sosteneteci, perché questo è il primo di una serie di fantastici progetti che vi proporremo su Kickstarter. Ne vedrete delle belle. Grazie a tutti.